Ragazzoli belli benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Come ragazzi la scorsa settimana, anche oggi appunto di fine settimana, vi propongo un secondo video riguardo appunto le video reaction su video divertenti. Ho visto ragazzi che la scorsa settimana questo tipo di video vi è piaciuto davvero tanto e abbiamo raggiunto all'incirca 25.000 visualizzazioni in davvero poco tempo, che comunque per un canale come il mio solamente di gameplay è davvero davvero tanto, quindi mi avete fatto capire anche tramite i commenti che questo tipo di format vi piace comunque vederlo da me, quindi ovviamente perché non riproporvelo per una seconda volta e quindi ragazzi ecco qua la seconda parte della video reaction. Vi ricordo ragazzi sempre di seguirmi sui miei propri social che trovate qui sotto in descrizione, tra cui Instagram che è il social che utilizzo di più in assoluto e poi di seguire le mie live streaming su Twitch che vanno dalle 13.30 fino alle 2 di notte. Quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, se volete altri video di questo genere lasciate un bel mi piace a questo video e commentate qua sotto che vi ricordo che io guardo sempre i vostri commenti e adesso niente ragazzi, godetevi queste grasse risate in mia compagnia. Buona visione ragazzi. Ma che c***o di versi fanno? Che c***o di versi fanno? No, che bello! Ne voglio uno ragazzi, ne voglio uno, ne voglio uno. Bellissimi, quanto mi piacciono. Sono diceva sempre che il mio lavoro deve essere molto divertente perché ho potuto giocare con i cittadini tutto il tempo, ma questo ragazzo ha stato scoperto l'entire. No, 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 no. No, fermi, sono un attimo psicologicamente confusa. Ok? Ok? Ma perché? Che carino. Che carino. Oh, c***o. Oh, c***o. Oh, c***o. Oh, c***o. Voleva solo giocare. Raga, vedete che gli ha fatto male? Gli ha fatto un HS devastante. L'ha distrutto. Cervella has left the chat. Lui ha detto Dicci qualcosa Che tua madre non sa E quello si è messo in gola il microfono. Oh, c***o. Hai entrati in casa. Oh. 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 Giustamente ci ha fatto una figura di m***a. Proseguiamo. Qual è il problema? Cos'ero io quando giocavo a CS? Cos'ero io quando giocavo a CS In un rank praticamente bello alto Dicevo Ok, ragazzi. Push B. Ok, ok, ok. Così. Camminavano così tranquilli E morirono come dei c***i. Madonna mia. Era. Doveva accettare forza qualcosa. Che c***o è? Uno. Oh, me. Era un orso. Oh, devo esbrigare il turno mio dopo. My girlfriend is on a... Ah, ok. Quando è la vostra ragazza Ha il ciclo E quindi diventa un mostro E dovete dargli da mangiare. No. 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 Ma è fake, dai. Che c***o vuol dire? Che cos'è? No. 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 Non ho capito Cioè sto gatto gioca da solo 200Q sto gatto 200Q Questa Questa era bella Questa era fighissima Questa era bellissima cazzo Questa era fatta bene Questa era fatta veramente bene Oh cazzo Ma non si vedeva Non si vedeva Ma gli ha rubato la banana Figlio tipo Ma è satanata Ma non si vedeva Ma non si vedeva Quanto è brutto Povero Ma sei rinc***to Porca p***a Mi fa male Vabbè questa era fatta apposta Questa è una scheda madre Degli anni 42 Porca p***a Questa è un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.